Sant'Arsenio diventa Plastic Free, l'ente guidato da Donatopica, deliberato di adottare misure per arginare gli effetti di un materiale che è diventato il principale nemico dell'ambiente e un rischio per la salute umana. A causa della sua lenta decomposizione, la plastica che accumuliamo diventa un problema che non si può più ignorare. Impressionanti sono le isole di materiale plastico che galleggiano nei mari, ma non meno preoccupanti sono le microdiscariche a cielo aperto che troviamo anche nel Vallo di Diano. Il Comune di Sant'Arsenio ha allora individuato alcune misure per frenare il consumo di plastica monouso. Parte dando il buon esempio con la riduzione dell'uso della plastica sostituendola con vetro e prodotti biodegradabili negli uffici pubblici del Comune. Passa poi alla promozione della gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante manifestazioni, convegni, sagre e ogni iniziativa aperta al pubblico, prevedendo specifiche forme di premialità e prescrivendolo negli atti di uso e concessione di strutture pubbliche o solo pubblico. Necessarie poi saranno le azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale nelle scuole nonché incontri rivolte alla cittadinanza. E si impegna poi a promuovere il Green Public Procurement attraverso l'introduzione di criteri premianti nelle procedure ad evidenza pubblica negli acquisti plastic free o plastica riciclata. Il Ministero dell'Ambiente ha avviato già da un po' un percorso per diventare plastic free e sta sollecitando tutte le amministrazioni pubbliche affinché siano da esempio i cittadini e si impegnino a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata. Da queste parti sono ancora troppo pochi i comuni che hanno preso seriamente in considerazione la sfida, aderendo a quella che è innanzitutto una rivoluzione culturale.